Sono passati solo due giorni dai ringraziamenti ufficiali a Salvo Giordano, mister della promozione in prima categoria. Una separazione consensuale tra società e allenatore legata alla considerazione che dopo due anni intensi con risultati significativi fosse per entrambe le parti arrivato il momento di trovare stimoli differenti. Il tempo però è tiranno e in casa Calcio Giarre fervono già i lavori in corso per preparare al meglio una stagione che partirà all'insegna della parola rifondazione. Sarà infatti rinnovamento totale o quasi per i giallo-blu sia per ciò che riguarda la rosa di calciatori che affronterà il campionato che in primis in relazione allo staff tecnico. Le voci che filtrano da via Olimpia parlano in particolare di una serrata lotta a tre per stabilire il successore di Salvo Giordano. Tre nomi di spessore, due dei quali avrebbero già accettato la panchina con esperienze in categorie superiori sia in promozione che addirittura in eccellenza. Con tutta probabilità dunque sarà domani, sabato 23 giugno, il giorno buono per la comunicazione del nuovo allenatore. Partendo da questa nomina poi comincerà a delinearsi la rosa dei giallo-blu col nuovo mister che sarà in prima linea nella selezione degli arrivi e nei colloqui con gli attuali componenti della rosa per capirne motivazioni e adattabilità al campionato. Le ambizioni dunque in casa Calcio Giarre non mancano. Il primo mattoncino per costruire il futuro sta per essere posto.